Fai pensare chi sei? Vediamo chi sei? Sì, io lo so. So perfettamente chi sei. Tu sei la media delle cinque persone che frequenti di più ogni giorno. E di questo che oggi parliamo grazie alla domanda che ci ha fatto Roberta. Ciao Luca, ti ho sentito dire che ognuno di noi è la media delle cinque persone che frequenta di più. Potresti dirci meglio cosa significa e come comportarci se siamo circondati da persone che troviamo sgradevoli? Caro Roberta, sì, te lo confermo, questo è uno dei miei cavalli di battaglia, la prima volta l'ho sentito dire dal solito Jim Rohn ed è un elemento molto molto importante su cui vale la pena spenderci un paio di riflessioni. Alla base di questa idea c'è l'intuizione che l'influenza che gli altri esercitano su di noi sia talmente sottile e quasi impercettibile che neanche ce ne accorgiamo. Ma se ci pensi così, se frequenti persone che spendono tutto quello che guadagnano, ci sono molte possibilità che anche tu diventerai uno spendaccione. Se frequenti persone che assistono più spesso a incontri di pugilato che andare al cinema, è assai più probabile che farei la stessa cosa. Se frequenti persone che non si fanno mai nessun problema a decidere di prendere qualche piccolo imbroglio nel corso della loro vita, è molto facile che anche tu ricorrerai a questo tipo di scorciatoie. Allora Roberta ti chiederai come meglio orientarmi in questo panorama, ecco le mie 4 indicazioni per te. Ci sono 3 domande sulle quali ti devi interrogare dedicando almeno 10 minuti del tuo tempo che ti possono aiutare a mettere a fuoco un po' meglio quelle che sono le tue frequentazioni attuali. Con chi trascorro il mio tempo? Cosa mi fanno questi individui? Questo rapporto a me sta bene? Se spendi del tempo a riflettere su queste domande e le loro risposte, dovresti riuscire ad avere una panoramica più chiara delle tue frequentazioni. Ma se così non fosse potresti ripensare uno a uno a questi individui e chiederti per ognuno di loro che cosa ti fanno fare, che cosa ti fanno ascoltare, che cosa ti fanno leggere, dove ti fanno andare, come ti fanno pensare, come ti fanno parlare, come ti fanno sentire, insomma tutte quelle domande che possono aiutarti a capire meglio se queste persone ti stanno avvicinando al tipo di obiettivi che ti sei posto oppure se sono completamente forvianti. Ok, se dopo questa prima analisi delle tue frequentazioni ti sei reso conto di essere circondato a campioni, buono per te amico, vai avanti così. Se invece vedi che sei circondata da erbacce, l'indicazione più semplice è quella di allontanarti dalle persone che sono distruttive nei confronti del tuo benessere. Devi liberarti dalla loro influenza, ovvio questo non è sempre possibile, ci sono delle persone che forzatamente devono starci vicino e in questi casi sarebbe meglio frequentarle il meno possibile o porre dei limiti nel rapporto che intratteniamo con loro. E a questo scopo, a questo proposito, il prossimo punto del video potrebbe tornarti utile. Un concetto col quale è molto 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 importante familiarizzare è quello di primario e secondario. Ci sono delle situazioni che ci fanno crescere, ci arricchiscono e ci piacciono un casino e queste sono situazioni di rilevanza primaria. Al contrario, tutto ciò che ci lascia nella mediocrità e che ci consuma senza darci nessun tipo di produttiva, l'ho raggiunto a una rilevanza secondaria. Un errore che vado a fare un sacco di volte è quello di dedicare del tempo primario a situazioni secondarie. Ad esempio passare le ore più produttive della nostra giornata, che solitamente sono le prime della mattina, con persone per di tempo o dietro a inutili riunioni e appuntamenti. Il gioco invece dovrebbe essere il contrario, tralasciare nei momenti di relax secondari, dove magari siamo già un po' stanchi le attività secondarie, senza sciupare in cose da nulla il nostro prezioso tempo. Quarto step dopo aver analizzato la panoramica delle nostre frequentazioni e aver limitato quelle un pochino più pericolose è ampliare e lasciar correre, dare corda, dare spazio alle frequentazioni invece quelle importanti, quelle primarie che ci fanno crescere. E chi sono mai queste persone giuste? Io non lo so quali possono essere le giuste per te, quelle che sono giuste per me. In generale le persone giuste sono quelle che rappresentano dei valori verso i quali tu vuoi tendere. Se vuoi diventare salutista può essere per te importante frequentare un gruppo di persone che già è salutista e ti sprona e ti incita e ti accompagna in questo stesso percorso. Sia chiaro, non c'è arrivismo in tutto questo, ma ci deve essere una sana curiosità e voglia di mettersi in gioco con altre persone che possono insegnarci qualche cosa. Non c'è nulla di male insomma a frequentare delle persone più brave di noi. Molti di noi hanno il loro ristorante preferito, ed è un peccato che in pochi invece abbiano il loro pensatore preferito. E così come ci prendiamo cura quotidianamente, tre volte al giorno almeno, del nutrimento del nostro corpo, dovremmo fare altrettanto anche con il nutrimento della nostra mente. E peraltro sul tema delle frequentazioni potrebbe anche interessarti un video sui mentori che ho fatto un po' di tempo fa e nella descrizione di questo video troverai poi tutti i link del caso. È tutto, chiudo con una breve storiella che rappresenta il perca di questo video. C'era una volta una rondinella che si copriva con l'ala un occhio piangendo amaramente. Un gufo le volò accanto e le domandò, uccellino, che cosa succede, come mai piangi? E la rondine scostò l'ala e mostrò una cicatrice al posto dell'occhio. Ora capisco, osservò il gufo, tu piangi perché il corvo ti ha cavato l'occhio. No, rispose l'uccellino, io non piango perché il corvo mi ha cavato l'occhio, ma perché io l'ho lasciato fare. Ricordiamoci anche noi, cari amici, di selezionare in maniera molto scrupolosa le persone a quelle quali condividiamo la risorsa in assoluto più preziosa che abbiamo, il tempo. Anche per oggi è tutto, grazie e alla prossima.